È stato presentato nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni il decimo Gran Sasso Bike Day, che si terrà domenica 3 settembre. L'evento, oltre ad essere di carattere sportivo, porta con sé anche messaggi importanti come l'educazione alla sicurezza stradale, alla tutela dell'ambiente e alla promozione della montagna e dello sport. Abbiamo cercato di perfezionare in questi dieci anni tutte le cose che ci sono e la gestione della manifestazione. Chiuderemo la strada, quindi non ci saranno macchine, non ci saranno moto. L'idea nostra non è una manifestazione competitiva, è una manifestazione per tutti, per le famiglie, per i ragazzi, per poter salire in tranquillità sul Gran Sasso. È un modo per scoprire la montagna, per viverla e per avere un buon rapporto con la natura senza inquinare. E contestualmente al Gran Sasso Bike Day, quindi questa ascesa che è appena descritto di 27 chilometri, ci sarà anche una ciclo pedalata di 110 chilometri per i ciclisti un po' più allenati, che vorranno cimentarsi con i 2000 metri di dislivello di questo giro, che toccherà i borghi di Santo Stefano, di Calasso e di Castel del Monte. L'iniziativa rientra nel cartellone di eventi L'Aquila rinasce con lo sport, curata dal professor Bizzarri. Noi quest'anno abbiamo accentuato molto di più le manifestazioni sul Gran Sasso, proprio per promuovere questa nostra bellezza, che è già conosciuta, però è sempre poco. Poi è un memorial, è un memorial che ci ricorda un amico, un atleta, che purtroppo non c'è più, ed è anche un modo per spingere a educare non solo gli autisti, ma insomma tutti quelli che guidano veicoli di qualsiasi natura al rispetto delle regole, al rispetto dei pedoni, al rispetto dei ciclisti. Un insegnamento che dobbiamo dare anche ai nostri figli, ai bambini, agli adolescenti, e poi, non ultimo, ma anche qui importantissimo, un messaggio di salute. Lo sport fa bene, lo sport abbinato con la natura fa più che bene, per cui dobbiamo educare a far continuare a far fare sport ai nostri figli, perché, come ho detto, purtroppo solo il 10% dopo i 14 anni continuano a fare sport. Dallo scorso anno, questo evento è dedicato al giovane atleta Mauro Mannucci, che perse la vita proprio in un incidente su strada. Questa manifestazione è dedicata a mio fratello Mauro e a tutte le vittime della strada. Oltre, ovviamente, ad essere una giornata che deve essere comunque gioiosa. Mauro ha sempre amato queste manifestazioni, ha sempre amato andare in bicicletta. Ci auguriamo che per ogni ragazzino, per ogni anche bambino che si appresterà domenica a salire sul Gran Sasso, ci sia sul viso quel sorriso e quella gioia che ha sempre avuto mio fratello di andare in bicicletta. Certo, c'è ancora tanta strada da fare per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda tutto ciò che è collegato a questa grande problematica, però pian piano, se ci mettiamo un po' del nostro tutti, se cerchiamo di educare soprattutto, già dai nostri figli, da bambini, al rispetto delle regole, soprattutto legate alla strada, forse qualcosa si potrà fare.